Sandro Chia è fra i principali esponenti del movimento della Trans-Bahavaguardia. Ha trascorso molto tempo tra l'Italia e gli Stati Uniti. Le sue opere risultano inizialmente concettuali, per poi diventare più figurative. Ma in entrambi le fasi c'è un elemento comune, cioè l'atmosfera onirica e surreale. Nel corso degli anni la figura umana acquisisce sempre maggiore spazio. I personaggi presentati sono umili, ma l'artista li presenta come se fossero degli eroi, richiamando grandi capolavori del passato.